Il fondo di ogni cuore umano, non mi inviti ad amare, mi chiedi di essere uomo secondo i disegni del Padre. Amare solo chi mi ama, salutare solo chi mi saluta, ignorare chi mi ignora, non aiutare chi non è dei miei, a me sembra logico, spontaneo, naturale. Amare come tu ami invece e difende l'adultera, accetti l'invito a pranzo dei pubblicani, perdoni chi ti mette in croce, dai il primato a Pietro che si è vergognato di te. A me sembra umanamente è semplicemente impossibile. Ti supplico Signore, aiutami ad amare come tu ami, affinché anch'io possa volare nel cielo dell'amore, il tuo amore, l'amore che salva, l'amore che donna speranza. Amén. Grazie. 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 Grazie.